Rischi sulla strategia e un Perez dietro poteva prendere qualche rischio e l'è andata bene Brum brum Mi metto le mani nei capelli che mi sono appena tagliato Per la disperazione Arachiri Ferrari Ma che disastro hanno combinato Hanno buttato una vittoria incredibile a Monaco Una doppietta con una strategia folle Una strategia folle Cosa è successo? Gara inizia in ritardo per la pioggia Avete visto chi l'ha visto? Subito alcuni piloti mettono le intermedie Mentre i primi quattro Leclerc, Sainz, Perez e Verstappen Proseguono con le gomme da reni E in quel momento inizio a pensare Con i tempi che stanno facendo quelli delle intermedie Dovrebbero pensare alla Ferrari di anticipare la Red Bull Perché a Monte Carlo l'undercut Ovvero fermarsi prima di quello che sta avanti Paga di brutto E invece cosa mi combinano? Si ferma prima Perez Che in quel momento era terzo E io scrivo un messaggino Whatsapp ai miei amici Che poi siete voi che mi seguite Quindi più o meno sapete quello che vi ho scritto Scrivo e dico Adesso la Ferrari dovrà fermare Sainz Per coprire la strategia di Perez Quindi il secondo copre il terzo Mentre il primo va su un bistop più lungo A mettere direttamente le gomme da asciutto E invece cosa fa? La Ferrari chiama Sainz E Sainz risponde no Rimango fuori In quel momento Sapete che Monte Carlo è una pista brevissima Quindi non c'è un grande tempo di reazione Il pilota della Ferrari perde il momento giusto Per rientrare ai box E quindi Perez Nella girandole dei bistoppo L'aveva già tagliato fuori con l'undercut Perciò sarà Leclerc a fermarsi E con un Leclerc incazzatissimo Incazzato nero Dovrà passare dal primo al quarto posto Allora io adesso dico una cosa Con Perez che ha vinto Sainz Secondo, terzo Verstappen, quarto Leclerc Io dico Che senso ha Una Ferrari Che ha il pilota più veloce Che ha fatto più pole position quest'anno Un pilota che stava stradominando la gara Aveva dieci secondi di vantaggio dopo pochi giri Che senso ha avere un pilota del genere E poi fumarsi le gare con un'affidabilità che non sta in piedi Una strategia completamente sbagliata Come quella che hanno fatto oggi Un secondo pilota che non ascolta i richiami del box Adesso io non è che voglio dare la croce a Sainz Lui ha fatto la sua gara È arrivato secondo È arrivato sul podio E quindi Però Per il box Chiamare un pilota E non avere il suo supporto È una cosa molto grave Sainz doveva assolutamente fermarsi C'è solo un caso in cui il pilota può rifiutarsi agli ordini del box Ed è quello in cui sta guidando la corsa Sainz era secondo E con la sua gara e con la sua ingerenza Ha distrutto non solo la gara della Ferrari Perché poi lui non ha vinto Ma ha distrutto pure la gara del suo compagno di squadra Quindi secondo me questa è una cosa gravissima Binotto come diceva lui stesso Deve riflettere Ai tempi di Jean Todd Uno come Sainz avrebbe finito il dopogara Appeso al trampolino delle piscine di Monte Carlo E quindi la Ferrari grave grave Malissimo La Red Bull si lancia verso il mondiale La prossima gara dovrebbe essere a Montreal Dove è una pista veloce La Red Bull è favorita E mentre questa era assolutamente una pista Ad appannaggio della Ferrari Infatti aveva stradominato le prove E quindi malissimo la Ferrari Malissimo Cartellino rosso per i box E mi dispiace per Leclerc Sicuramente Leclerc non merita questa Ferrari Lo dico Leclerc non si merita questa Ferrari E la Ferrari non merita Leclerc Perché non è giusto mettere in difficoltà Un pilota così bravo Con un cuore così grande Così veloce Che dà il massimo al 100% Ed è sempre Il pilota che va per la squadra Mentre il mio figlio fa casino Vabbè Io vi saluto tutti E ci vediamo alla prossima gara Brum 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 Brum